Il Consigliere, Centro Spirituale Frattocchia, attraverso Vanda Entità. Cerco di consultarti, ma tu non rispondi ai miei segnali, sai? Ho una cosa importante da dirti. Il mio consigliere mi ha comunicato che sta arrivando il momento dell'assoluto risveglio e che, quando mi verrà chiesto, dovrò essere pronto ad avere la risposta giusta. Io mi domando, sarà difficile decidere quale sarà la strada che dovrò prendere? Ho chiesto al consigliere di indicarmi una direzione, ma la sua risposta è stata Io non posso suggerirti niente, perché dipende solo da te. È la tua vita e devi sapere bene quale direzione prendere. Nessun compromesso. Se prendo la strada sbagliata, sarò solo io a pagarne le conseguenze. Sono confuso. Finora vivevo senza pensieri, libero di vivere, ma ora verrà il momento in cui dovrò dare il resoconto del passato. Cosa devo fare? Mi puoi dare un consiglio tu, che sei addentro a queste cose? Sento la tua risposta, che è la stessa del consigliere. Ognuno si deve assumere la sua responsabilità. Mi terrorizza il fatto che devo decidere. A chi posso chiedere consiglio? Affidati alla clemenza della luce. Il suo amore ti consiglierà. Va bene, farò così. Aiutami a pregare, ovvero prega per me, perché io possa prendere la strada giusta, ma non angosciarti per me. Trovandomi in un'altra dimensione, le nostre strade si sono separate. Anche se non ancora del tutto. Beh, ora mi sento più calmo e non sono più spaventato. Esaminerò bene come mi devo comportare, altrimenti pazienza. Commento. Il consigliere di questa entità è una coscienza che comprende la sua. Dopo il trapasso, trasciniamo intatta nel piano astrale la nostra evoluzione e manteniamo lo stesso bisogno di aiuto che avevamo nel piano fisico. Grazie. 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 Grazie.